Buongiorno, chiedo informazioni su operazioni alle borse degli occhi, ho 65 anni e un anno fa ho avuto il distacco posteriore di vitreo all'occhio destro, posso fare l'intervento? Può fare l'intervento la signora perché non ci sono correlazioni tra le palpebre e l'occhio inteso come bulbo oculare. Quel distacco del vitreo che dice lei è un distacco che viene all'interno del bulbo oculare, quindi della palla dell'occhio per essere chiaro. Dove agiamo noi per togliere le borse è sempre nel distretto di vicino, ma è sempre un po' vicino, non è la stessa cosa. Quindi dal punto di vista oculistico e dal punto di vista della chirurgia plastica sono due piani vicini ma diversi, quindi io posso andare tranquillamente a rimuovere il tessuto adiposo della signora che è in eccesso, perché ho le borse? Perché mi esce un po' di grasso da sotto, praticamente dal bordo pebrale e invece questo è il distacco del vitreo che è nell'occhio stesso. L'esercizio matutino che facciamo fare alla paziente o ai pazienti a casa se vogliono capire cosa sono le borse è di prendere il dito indice della mano sinistra destra indifferente e di toccare l'osso qui e sentite che c'è un bordo, quello è il bordo orbitario, quindi il bordo dell'orbita del cranio. Da quel bordo orbitario esce un grassettino che tiene un pochettino in sospensione il nostro bubo oculare, quindi noi andiamo a sportare quel tessuto adiposo. Quando uno c'è la borsa il grasso esce tra quel bordo lì, sopra quel bordo e l'occhio quindi esce un pochettino in sospensione, quindi la signora può fare l'intervento.